È ora che l'Italia rialzi la testa, tutta l'Italia, quella del Nord, quella del Centro e quella del Sud, perché tutti insieme, o nessuno, rialzeremo la testa, che torni a impegnarsi e a credere nel suo futuro. Sì, è ora che l'Italia ci creda nel suo futuro. Ed è per questo che tutti siamo chiamati alle nostre responsabilità e a unire le forze tra istituzioni nazionali e locali. Esercitare le nostre responsabilità significa anche rafforzare le istituzioni che rappresentiamo attraverso la buona politica, affinché i cittadini di quella politica e di quelle istituzioni ne abbiano più rispetto. Abbiamo noi la responsabilità di far tornare i cittadini a innamorarsi delle istituzioni.